Non potrete rientrare più tardi delle dieci, salvo un permesso speciale della direttrice. Non è soltanto una questione di morale, è questione di rendimento al lavoro. Tieni! È permesso? Chi siete? Chi mi ha fatto entrare? Nessuno, sono entrato da solo. Scusate, siete il capo del personale? Sì, perché? È una cosa grave, urgente. Cosa c'è di grave? Mia zia, gravissima. Sono dolentissimo, ma io non sono un medico, non capisco. Mia zia abita nel Nevada. Un po' lontano. Correte da lei e buon viaggio. Scusate, permettetemi, non mi sono spiegato bene, sono così agitato. Io sono il cugino di Grace Peterson. Ah, e chi è Grace Peterson? Una vostra impiegata, una delle vostre commesse, reparto musicale. Ah sì? E allora? Questa zia è anche zia sua, è stata come una madre per noi due. Bisognerebbe che Grace partisse immediatamente con me per il Nevada. Perché non me l'avete detto subito? Pronto, reparto musicale? Fate venire immediatamente in ufficio la signorina Grace Peterson. Sta bene, signor Grey, ve la mando subito. Grazie. Grazie.